Siamo qui con Dario Gerardi, uno dei giovani imprenditori del gruppo giovani gestori di Artilab. La giornata si sta svolgendo alla grande, il tempo è dalla nostra parte, stamattina c'è stato un flusso di gente buono e ci auguriamo che oggi si raddoppi l'afflusso. I laboratori inizieranno a breve, anche se sono già partiti la mattina, c'è stato un po' di pausa, adesso alle 3.30 ci sarà quello di programmazione per i bimbi da 6 anni in su, quindi vi aspettiamo numerosi, assolutamente in Artilab. Grazie, abbiamo anche l'istintivo dello staff pronti per il mestiere artigiano. Buona giornata. Si può migliorare sempre di più, per cui con il gruppo giovani sicuramente questa è una garanzia, la garanzia del loro impegno, sicuramente la garanzia del loro entusiasmo e la garanzia del loro successo, per cui direi chapeau. Grazie. Grazie a te, buona continuazione. Grazie. 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 Grazie.